cipolle caramellate ciao benvenuti mi chiamo maria e questo è il mio canale youtube di cucina scoprirete tantissime ricette facili e veloci cucinare con me sarà più semplice affettate le cipolle se non vuoi perderti i prossimi video iscriviti al mio canale youtube in una padella trasferite le cipolle con lo zucchero il sale e un bicchiere di acqua cuocere a fuoco medio basso finché lo zucchero non si scioglierà e le cipolle non risulteranno glassate e morbide è importante mescolare sempre con un cucchiaio se necessario aggiungete ancora poca acqua dopo circa 30 minuti saranno pronte se ti è stato utile lascia un like alla prossima ricetta ciao 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 ciao